Gli abitanti di Rione Paradiso di Brindisi continuano ad essere posti nella condizione di sentirsi i cittadini di Serie B. Se ne convincono sempre di più, anche alla luce di ciò che avviene quotidianamente. Vale la pena però tornare indietro di qualche anno quando fu annunciato da Arca Nord Salento un intervento in grande stile che consisteva nella totale ristrutturazione di palazzine e di locali commerciali. Quel quartiere insomma sarebbe rinato grazie a un finanziamento di qualche milione di euro a distanza di tempo però ci si ritrova con qualche bel dipinto e con lavori di ristrutturazione incompleti e fatti male. Ne sanno qualcosa i cittadini che risiedono in via Ignazia partendo dal civico 88 i quali pensarono al miracolo quando fu rifatta la facciata che si affaccia sul viale principale. Poi si sono resi conto che al di là dell'apparenza i nuovi infissi facevano infiltrare l'acqua ma soprattutto che la facciata laterale e quella retrostante erano rimaste prive di qualsiasi intervento per ragioni che è davvero difficile comprendere. E non c'è traccia neanche dei nuovi infissi da quei lati così come dell'ascensore che dovrebbe permettere ad anziani e disabili di non rimanere prigionieri in casa. Da qui la protesta a cui hanno voluto dar corso attraverso Telerama. A noi ci dicono sempre che molto probabilmente dovranno fare dall'altra parte di dietro alla piazza. Questa cosa da un anno che non fanno niente. Due anni forse? Due anni. Gli altri ditti appaltatrici hanno messo tapparelle, l'impianto dentro casa, tutto l'elettrico, tutto. Allora perché da noi non si fa più niente? Ecco questo vogliamo sapere di che di competenza delle case popolari, del comune, della ditta anche per sapere qualcosa perché giustamente noi stiamo stanchi. Siete stanchi e vi sentite anche i cittadini di Serie B? Sì. Sì. Prese in giro perché nessuno ci dà una risposta precisa. E dire che qui si era fatto tanta festa in passato per annunciare grandi interventi. Ma poco dal dire al fare non c'è niente proprio. Zero. Allora noi vogliamo qualcuno che si muove per darci una risposta. Sì. Sì.